E' stato presentato questa mattina durante la cerimonia per ricordare il 247esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, il bilancio operativo delle attività svolte dal Comando Provinciale nell'anno segnato dal Covid. Nel 2020 la Guardia di Finanza di Pesaro ha eseguito 2065 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 114 interventi ispettivi e 298 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale. 1500 circa invece sono stati gli interventi condotti nell'ambito del controllo economico del territorio, grazie ai quali sono stati scoperti 28 evasori totali, ossia esercenti di attività di impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'amministrazione finanziaria che hanno omesso di dichiarare al fisco una base imponibile di circa 30 milioni di euro. Sono state eseguite inoltre 130 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 72 soggetti. Il valore dei beni sequestrati per reati in materie di imposte dirette e IVA è di 4,4 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria ammontano a 13,6 milioni di euro. Sono stati significativi anche gli interventi al fine di contrastare la filiera distributiva delle merci introdotte illecitamente sul territorio. È di circa mezza tonnellata infatti il sequestro di prodotto petrolifero effettuato in occasione di specifici controlli coordinati in ambito provinciale. Nel corso del 2020 la Guardia di Finanza ha dedicato una particolare attenzione anche agli illeciti in materia di spesa pubblica, con quasi 70 interventi a riguardo e 20 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria. Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, invece, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita appropriazione del reddito di cittadinanza. Gli interventi svolti in quest'ultimo ambito, grazie anche al contributo dell'Inps, hanno permesso di intercettare oltre 151 mila euro indebitamente percepiti, circa 25 mila euro di contributi richiesti e non ancora riscossi, e di denunciare all'autorità giudiziaria 19 soggetti. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono state 77.